Ed eccoci qua in una nuova puntata che parte col botto per quanto riguarda la stagione autunnale di Snap Render Imperfetti con il grandissimo Mariano Di Benedetto che spero che sia almeno un po' emozionato per aprire la stagione autunnale di Snap Ciao Mariano, benvenuto ai microfoni di Snap Ciao Roberto, ciao a tutti quanti, bentornati alla nuova stagione di Snap autunnale sono felicissimo di aprire la stagione sono veramente molto fiero che Roberto mi dia questa occasione Guarda, ormai sei diventato di casa, ormai i tuoi podcast perché ormai li confezioni tu con la scaletta e via discorrendo io ti accompagno in questo podcast in cui parliamo di render imperfetti ovviamente qua sei tu che porti avanti i discorsi alla grande e sono ovviamente curioso di sentire cos'è da dirci dopo la puntata precedente la puntata precedente in cui hai parlato di Apple e di quello che si può fare dal punto di vista dei render con la CPU e ora andiamo invece sul duro, sul cattivo perché parliamo di GPU ovvero quello che si può fare con le Graphic Processing Unit per quanto riguarda il rendering con Apple come sappiamo bene, almeno chi lavora in ambito Apple ormai possiamo dire tranquillamente ciao a tutto quello che riguarda l'hardware con Intel e con schede grafiche dedicate sia esterne che interne in questo momento, vedremo nel futuro e quindi con l'avvento di Apple Silicon abbiamo delle simpaticissime GPU integrate all'interno del SOC ci sono dei contro, ovviamente vediamo un po' di analizzare insieme di quello che si tratta in sintesi vi posso dare il mio punto di vista visto che sono appena passato a un computer con Apple Silicon è interessante iniziare a pensare che delle schede grafiche integrate possiamo definirle così, quelle che ci sono all'interno di Apple Silicon incominciano a dare fastidio alle schede grafiche esterne e dedicate a questo tipo di lavoro ovviamente c'è ancora molto lavoro da fare secondo me e sicuramente Mariano ci spiegherà anche il perché e adesso dire tranquillamente di lasciare la parola al nostro Mariano che ci parlerà del GPU rendering con Apple iniziamo subito con dire che dobbiamo distinguere questi software rendering GPU in due grandi macro categorie che sono quella del raster e quella del retracing ed iniziamo subito qua con i denti che incominciano un po' a stridere per chi utilizza Apple all'interno del suo workflow perché quando parliamo di ray tracing incominciamo a essere un po' messi alle strette abbiamo visto che dal punto di vista delle CPU in qualche modo ci difendiamo in ambito Apple mentre per quanto riguarda il rendering con il ray tracing incominciamo ad avere delle difficoltà ma diciamo che possiamo iniziare a parlare della tecnologia raster che è essenzialmente quello che possiamo utilizzare in modo molto sciolto molto molto disinvolto diciamo così all'interno dei computer con la mela morsicata sopra ma adesso andiamo a vedere di che si tratta direttamente con Mariano per quanto riguarda la tecnologia raster stiamo parlando di una tecnologia che trasforma proprio la parte tridimensionale e pixel per pixel viene assegnato un tipo di colore che poi viene modificato in base a degli eventi di luminosità per esempio quando c'è il sole o c'è l'ombra non è un reale tipo di sole viene soltanto modificato il colore del pixel in modo tale che nell'insieme all'immagine restituisca l'effetto di illuminazione ma non è un'illuminazione calcolata sul tridimensionale stesso mentre il ray tracing è il contrario di questa tecnologia praticamente partendo dalla sorgente luminosa questo emette un raggio di fotoni che vanno a sbattere sulle superfici rimbalzano all'interno del tridimensionale e creano tutti gli effetti che sono quelli di illuminazione diffusa e per quanto riguarda tutta la parte dei riflessi che invece sul raster non esistono proprio tecnologia molto interessante che dà alle immagini un realismo decisamente diverso tra la tecnologia raster e quella del ray tracing ovviamente come si diffonde la luce all'interno dell'ambientazione riesce a dare l'illusione al nostro occhio che si parli o almeno si veda degli ambienti tridimensionali realistici e questo è molto importante molto importante soprattutto per chi si occupa di arcvids ma d'altra parte c'è da sottolineare che chi non si occupa di arcvids nel senso stretto della parola come sottoscritto ad esempio può tranquillamente appoggiarsi a dei rendering fatti in tecnologia raster perché devono semplicemente comunicare l'idea progettuale e non devono affascinare diciamo così e sono due diversi stili di ragionamento per quanto riguarda chi si occupa di immagini per comunicare c'è anche da dire che forse in questo momento storico parlare di immagini statiche forse è un po' riduttivo perché grazie ai nuovi software di rendering real time si riescono anche a fare dei filmati veri e propri senza uccidersi nel senso vero della parola ovvero che la macchina non richiede tempi biblici e si riesce a ottenere dei filmati molto semplici per comunicare l'idea a una persona che non sia un tecnico ricordo sempre per tutti quanti i tecnici che sono in ascolto che dare delle piantine a un cliente è un errore di comunicazione secondo il mio punto di vista perché diamo per scontato che chi abbiamo di fronte riesca a capire una piantina invece facendogli vedere un modello tridimensionale facendogli navigare facendogli vedere anche un video sicuramente si riesce a far capire meglio al cliente la nostra progettazione e rientriamo invece a Bombas per quanto riguarda la tecnologia raster e soprattutto ai software dedicati a questo tipo di tecnologia che possiamo utilizzare in ambito Apple diciamo innanzitutto che con il raster riusciamo ad avere un rendering real time come stavi dicendo poco fa e ci sono due grandi software che riescono a fare questa cosa uno è Enscape di Chaos e l'altro è Twinmotion di Epic allora i due software sono entrambi molto validi dal punto di vista dell'elaborazione grafica diciamo che Enscape è ancora piuttosto giovane su Apple perché è uscito decisamente molto di recente Twinmotion è molto più navigato e oramai diciamo è lo standard del software raster su Apple diciamo che al momento non ci sono grandissimi rivali e Twinmotion purtroppo come dicevamo lavorerà soltanto in raster mode mentre su Windows abbiamo anche il modulo pad tracing che lavora attraverso DxR di Microsoft e riesce anche ad avere una parte retracing e fare un rendering molto spinto quindi da questo punto di vista abbiamo una versione dimezzata anche Enscape lavora il raster mode quindi risulta decisamente castrato rispetto alla parte Windows che invece riesce a sviluppare anche la parte di retracing ovviamente come diceva Roberto perde un rendering diciamo di tipo base per far capire a un cliente come si sta lavorando è più che valido però diciamo potrebbe essere molto di più e per esempio Enscape ha dei plug-in solo per SketchUp su Apple sono in arrivo dei plug-in su Archicad Virtual Works e Reno mentre Twinmotion è un software stand alone potete importare direttamente i vostri file all'interno del software oppure attraverso i plug-in che mettono in collegamento i vari software potete riuscire a fare una sincronizzazione direttamente dal vostro modellatore ti faccio subito una domanda giusto per capire che aria tira se dovessi scegliere tra Enscape e Twinmotion quale consiglieresti ai nostri ascoltatori al momento al momento Twinmotion ok d'accordo innanzitutto perché è uno stand alone io preferisco sempre gli stand alone quindi potete utilizzarlo indifferentemente dal software di partenza mentre Enscape è un plug-in quindi lo dovete installare all'interno di un software di modellazione e rimane legato unicamente a quello oltre per il fatto che al momento Twinmotion ha una resa grafica e raster molto migliore rispetto a quella di Enscape dopo questo quadro desolante diciamo così dei pochi software che possiamo utilizzare all'interno del comparto Apple e riguarda la GPU rendering raster chiamiamolo così in real time a questo punto andiamo a vedere cosa si può utilizzare per il ray tracing per quanto riguarda il ray tracing abbiamo due grandi categorie quella del rendering real time e quella del rendering non real time possiamo subito dire che il rendering in real time su Apple non esiste e benvenuti nel mondo Apple purtroppo ancora ne parliamo magari più tardi di questa cosa nelle conclusioni però adesso ci concentriamo un attimo su tutte le possibilità che invece Apple ci dà quindi sui software non real time e retracing e speriamo di avere delle buone notizie almeno da questo lato perché incominciate a capire che purtroppo ma come immagino tutti quanti abbiano sospettato almeno per chi utilizza hardware Apple e visto soprattutto anche come sta prendendo la questione del rendering Apple con quello che è successo col Mac Pro che è pieno di schede PCI ma che non vanno bene per essenzialmente le GPU esterne incominciamo a capire che l'abbandono diciamo di Intel e delle schede grafiche AMD adesso precedentemente quelle di Nvidia ha portato essenzialmente a rendere forse ancora più chiuso il comparto software e hard di Apple che purtroppo per chi si occupa di rendering non è proprio il meglio e c'è da dire però che bisogna lasciare una porta aperta perché non ho potuto approfondire chissà magari in un futuro riusciremo ad approfondire o avremo notizie un po' più facili da digerire chiamiamolo così per quanto riguarda la gestione del ray tracing all'interno delle GPU Apple e soprattutto di vedere magari qualche hardware dedicato come ha fatto Nvidia proprio per questo tipo di calcolo staremo a vedere cosa ha intenzione di fare Apple soprattutto dopo aver rilasciato i Vision Pro che iniziano a trattare la tridimensionalità di uno spazio in modo effettivo e penso che per migliorare questo hardware sicuramente il software dovrà migliorare e cominciare a prendere in considerazione anche questo tipo di calcolo matematico e magari chi lo sa in un futuro potremo vedere degli Apple Silicon che avranno qualcosa un coprocessore immagino io dedicato per questo tipo di calcolo in questo momento purtroppo non siamo in un momento molto felice siamo all'inizio dell'era Apple Silicon all'interno del mondo Apple e di chi lo utilizza e cominciamo a farne le spese tra virgolette sotto questo punto di vista come in tutti i settori nel momento in cui si introduce una novità hardware di questo tipo il software ci mette decisamente un po' a stargli dietro pensate al rendering che come avete sentito da Mariano il parterre di software non è proprio enorme ma se andate a pensare invece quello che ci ha messo case software come Autodesk o come Graphisoft per portare i loro prodotti software all'interno della modalità nativa di Apple avete visto che sono passati la bellezza di due anni di lavoro quindi non è proprio una cosa semplicissima da fare e soprattutto quando si inizia a parlare di rendering oltre alla questione di investimenti sotto questo punto di vista e di forze che la casa software deve investire sotto questo punto di vista per renderlo compatibile e nativo incominciano anche a esserci in mezzo degli interessi del punto di vista economico e quindi potete iniziare a prospettare qual è la linea che fino ad adesso abbiamo seguito all'interno di rendering perfetti avete sentito nella puntata precedente quali sono le soluzioni che potete utilizzare dal punto di vista della CPU del calcolo CPU e adesso andiamo a vedere invece per quanto riguarda il calcolo della GPU che il ray tracing real time non esiste quindi abbiamo una semplice risposta invece per quanto riguarda il non real time abbiamo qualcosa in più da dire ok iniziamo a descrivere alcuni di questi software che non sono tantissimi però comunque sono decisamente molto validi e il primo di questi è quello che ha sviluppato più di tutti per un ambiente che sia quella di macOS ed è Octenix di Otoy questo è un software piuttosto particolare perché è supportato da gli M1 gli M2 e anche da alcune GPU AMD per le vecchie generazioni dei PC Apple per i laptop Apple e questo renderizzatore viene anche sviluppato per iPad ed è uno strumento decisamente molto rivoluzionario molto interessante apre la prospettiva di utilizzo in mobilità in maniera del tutto diversa è molto basico ancora molto semplice però ci apre delle prospettive future che finora nessuna casa di produzione o nessuna software house aveva esplorato sotto interessante perché oltre a questa questione di essere compatibile con iPad che apre veramente un mondo perché voi se pensate a quello che è possibile fare con iPad adesso rispetto a quello che era possibile farlo due anni fa incominciate a capire che siamo all'inizio di questa evoluzione di questo strumento che sta diventando praticamente immancabile sulle nostre scrivanie di architetti perché oltre alle varie cose ci permette di fare il disegno digitale e non si ferma qua possiamo iniziare a fare già dei modelli tridimensionali con SketchUp e volendo potremo anche addirittura renderizzarli quindi la cosa diventa veramente interessante dal nostro punto di vista perché magari proprio in quel settore di pre-design che affrontiamo tutti quanti e con un computer non è proprio semplicissima da gestire invece con l'iPad secondo me il workflow è molto molto più interessante soprattutto perché si riesce a trovare delle soluzioni che si possono discutere direttamente col cliente in seduta stante e magari fargliele vedere semi renderizzate anche direttamente lì mentre stiamo parlando la cosa è molto interessante per quanto riguarda l'iPad ovviamente tutto da provare ricordo che comunque per quanto riguarda l'iPad bisogna avere essenzialmente iPad dotati di Apple Silicon io ad esempio ho un iPad non a generazione e non è supportato quindi non lo posso provare ma per fortuna adesso che ho cambiato il mio Mac posso invece provare Octane X Octane X che ricordo è gratuito in questo momento vorrò scaricarlo vorrò fare delle prove non le ho ancora fatte e la cosa che mi ha sorpreso molto è anche il peso dell'applicazione che pesa solo circa 260 MB e la cosa è molto interessante è molto curiosa voglio approfondire e soprattutto voglio vedere se in effetti c'è la possibilità di testarlo in modo un po' più completo e soprattutto fare anche in questo caso delle prove comparative non lo so se riuscirò a farlo c'è veramente tantissima carne al fuoco e soprattutto tante cose da testare e quello che manca è il tempo ma il nostro Mariano invece ci racconterà i tipi di software cui Octane X può essere utilizzato sì diciamo che possiamo avere Octane in diverse modalità la prima è quella di collegarlo come plugin a diversi software i software più famosi supportati sono quasi tutti quindi abbiamo Cinema, SketchUp, Maya Houdini Blender, Modo Nuke Unreal Engine Unity e poi possiamo averlo in modalità stand alone come per esempio sono quelle stand alone le modalità che potremo avere su iPad e possiamo averlo anche ovviamente sul Mac ovviamente questo tipo di software stand alone non dobbiamo immaginarlo come quello di Twinmotion che è un software prettamente architettonico che ha degli asset volti all'architettura e quindi è preparato per questo genere di lavoro no questo qui è un software molto più aperto a tutte le possibilità non sono presenti asset è semplicemente il renderizzatore tutto il modello deve essere svolto su un'altra piattaforma precisazione dovuta e anzi ti ringrazio Mariano per averla messa qua sul podcast perché magari non è chiarissimo io ad esempio ho votato come software di rendering per quanto mi riguarda per il mio workflow è sicuramente Twinmotion perché ha una semplicità d'uso ha una serie di asset e tutto lì dovete semplicemente mettervi e lavorarci sopra mentre forse Octane X che non ho ancora provato possiamo forse definirlo come un renderizzatore tutto quello che riguarda la modellazione tridimensionale deve essere fatto a monte tant'è soprattutto si vede subito dai software a cui il plugin è demandato volevo segnalare Blender Blender è un software open source molto interessante soprattutto perché stavo leggendo qua e là non ho ancora in questo caso avuto modo di definire proprio la questione ma prendetela con le molle incomincia già ad avere altri plugin che riguardano il mondo dell'architettura che riguardano l'intelligenza artificiale mi sembra di aver visto o intravisto se ho visto bene una gestione della progettazione tridimensionale tramite intelligenza artificiale che permette di avere dei modelli non dico prefatti ma che potete gestire come software generativo di soluzioni quindi Blender piano piano si sta approcciando anche queste nuove tecnologie e quindi è molto interessante anche che questo tipo di software che a prima vista non è proprio semplicissimo da utilizzare ma nel momento in cui iniziate a utilizzarlo a vedere le sue possibilità capite bene che un software di questo tipo che si interfaccia praticamente con il mondo è decisamente interessante soprattutto se lo vediamo all'interno di una filosofia Open BIM perché anche questo bisogna metterlo tra le varie cose che non viviamo noi architetti e questo parlo per chi non si occupa di ArchViz che invece lì è proprio una questione molto più verticale ma noi architetti dobbiamo fare questo passaggio perché non è che non dobbiamo farlo dovremmo averlo già fatto e dovremmo essere sul carro del BIM anche perché vi ho lasciato all'inizio dell'estate con la domanda rivolta decisamente ai professionisti occhio che sta arrivando il BIM 2.0 vi state informando e quindi io metto sotto questo punto di vista sul piatto della bilancia che attenzione c'è il BIM 2.0 io spero che siete già arrivati sul carro del BIM sta partendo il carro del BIM 2.0 e ricordo soprattutto per chi non lo sapesse che comunque il BIM 2.0 è tendenzialmente molto open BIM perché per fortuna deve funzionare in questo modo non è più una filosofia chiusa su se stessa e l'interfacciamento di quello che può essere un modello BIM con altri tipi di software come può essere Blender ad esempio che quindi si aggancia in questo caso con OctaneX come plugin è anche questo diciamo un filotto da tenere in considerazione soprattutto per chi lavora all'interno del mondo Apple ma oltre a questo ci sarà sicuramente qualche altro software che potrebbe venirci in soccorso sì da questo discorso volevo anche segnalare Unreal Engine che più o meno risponde all'incirca alle stesse caratteristiche di Open Unreal Engine comunque ne parleremo a breve è un game engine che in realtà può essere usato anche come renderizzatore e per esempio all'interno ci sono dei software di tipo non real time che sono Night e Lumen che a loro volta potrebbero essere usati in modalità retracing ma purtroppo Apple ancora non supporta questa modalità però visto che Unreal Engine è un contenitore molto grande può ospitare dei plugin come OctaneX che lo possono rendere un realizzatore non real time retracing oltre al fatto che rispetto alla filosofia Beam come diceva poco fa Roberto Unreal Engine è in grado addirittura di integrare linguaggi di programmazione come il C come il Visual Basic come il Python e tante altre tecnologie che poi lo possono interfacciare a sua volta a tecnologie di Machine Learning e quindi implementare intelligenza artificiale addirittura poter creare software tanto che per quanto riguarda i software che possono essere creati con Unreal Engine abbiamo due casi topici che sono ad esempio Twinmotion che Twinmotion è un software di Epic sviluppato all'interno di Unreal Engine e quindi è il figlio prediletto di Unreal Engine e un altro software che è sviluppato di rendering sviluppato attraverso Unreal Engine è D5 Render che lo troviamo come unica versione su Windows che è un software di tipo real-time retracing sviluppato completamente all'interno dell'interfaccia di Unreal quindi la potenza di questo software non si limita soltanto a essere un renderizzatore non si limita a essere un game engine ma si apre al mondo completamente verso qualsiasi tecnologia addirittura a poter creare software all'interno di questa piattaforma mentre parlavi mi è venuta in mente un'altra questione intanto ti ringrazio per questa idea che hai messo all'interno del podcast che è sicuramente da seguire occhio a Unreal Engine e tutto quello che ne consegue ma c'è un'altra questione che verrà approfondita probabilmente nelle prossime puntate di Snap regolari ma vi accenno questa visto che abbiamo parlato di Unity Unity è qualcosa di interessante soprattutto perché Apple visto che parliamo di tecnologia Apple ha detto durante il keynote WWDC 2023 che Unity sarà il game engine predefinito per sviluppare Vision OS la cosa ha lasciato un po' perplessi tutti quanti perché ci aspettavamo qualcosa come Unreal Engine ma fa lo stesso ma è interessante anche parlare della notizia che riguarda proprio Unity ma soprattutto che riguarda Apple e altre case software come Autodesk ad esempio che si sono consorziati per quanto riguarda lo sviluppo del formato di file OpenUSD che riguarda appunto la trasmissione dei dati tridimensionali e via discorrendo tra varie tecnologie questa è un'apertura non di poco conto dal punto di vista di Apple ma è interessante appunto perché sotto questo consorzio che guiderà lo sviluppo di OpenUSD come formato di file per la trasmissione di dati tridimensionali è decisamente interessante perché raggruppa sotto questo cappello il migliori sul mercato che riguarda il modello tridimensionali e quindi potremmo vedere degli sviluppi molto interessanti sotto questo punto di vista e credo che sia interessante da tenere sotto d'occhio anche per quanto riguarda gli sviluppi futuri di Apple e per quanto riguarda la modellazione tridimensionale quindi come avete sentito da questo podcast essenzialmente anche se in questo momento Apple è un po' diciamo carente sotto questo punto di vista però le premesse ci sono per degli sviluppi futuri che riguardano la modellazione tridimensionale e magari forse la metto io lì sul piatto non è detto che sia così anche per quanto riguarda il ray tracing ritornando invece agli argomenti della puntata volevo chiedere a Mariano se c'erano altri software invece che puoi indicarci ma prima di passare a questa domanda volevo chiederti un'altra cosa invece tornando a quanto riguarda quello che hai accennato precedentemente ovvero un software in particolare che è di Fiverender che tu mi pare stia utilizzando su piattaforma Windows se volevo sentire da te cosa ne pensi al riguardo guarda al momento credo che sia il software che implementa in assoluto il maggior numero di tecnologie in questo momento cioè è innanzitutto un nativo real time ray tracing ovviamente e sfrutta tutte le tecnologie di super sampling durante la visualizzazione è appena uscita la versione 2.5 che addirittura in renderizzazione ha un modulo di upscaling quindi ha il DLSS di Nvidia installato dentro quindi alla fine di un rendering riesce ad upscalarlo fino a 4k quindi al momento diciamo è software tecnologicamente più avanzato che ci possa essere in commercio allo stesso tempo è un software giovane quindi diciamo non è ancora il software di rendering che ha la resa grafica migliore ha un'ottima resa grafica però diciamo da questo punto di vista ci sono ancora dei miglioramenti sull'interfaccia piccole cose però a livello di motore di tecnologia che ha sotto fa da veramente fa veramente tanto brutto immagino perché ho visto qualche tuo video che ho avuto un piacere di vedere e fa veramente spavento vi consiglio di andare a dare un'occhiata di file render e di tenerlo sotto d'occhio soprattutto per chi lavora con tecnologia windows mi raccomando stateli sotto perché se Mariano è rimasto impressionato vuol dire che c'è veramente da rimanere spaventati quindi seguite i suoi consigli e invece ora torniamo un attimo nel nostro piccolo ambiente Apple nella gabbia dorata e parliamo invece di Maxon allora adesso passiamo a Maxon e parliamo di Rackshift che ha un software innanzitutto è un plug-in e quindi si collega a un software maggiore da questo punto di vista abbiamo diversi software che possono collegarsi a questo ma i più importanti diciamo sono Maya Cinema 4D e Archicad appunto questo è un software totalmente GPU e supporta diverse schede per esempio ci supporta le vecchie generazioni di schede delle radio on pro presenti su i PC Apple supporta le Vega e supporta la serie M quindi diciamo dal punto di vista di Apple lui riesce a supportare tutta la gamma di CPU che una macchina Apple ha avuto nel tempo Redshift è un software di alto livello quindi lo possiamo mettere al pari di un Corona e di un V-Ray a livello di resa finale quindi è un tipo di motore che si adatta più a una fascia per professionisti del settore mentre per quanto riguarda diciamo i software GPU solitamente sono sempre visti come una roba più per diciamo per tutti però iniziamo un attimo a parlare anche di software per professionisti con la GPU quindi ce ne sono diversi stanno arrivando e molto presto andranno a sostituire tutta questa parte di CPU che abbiamo visto nella puntata scorsa a meno che questi non evolveranno e a loro volta entreranno a essere concorrenziali sì possiamo dire tranquillamente che software come Twinmotion che sono più calati verso la parte diciamo di visualizzazione per architetti comuni diciamo così questi software invece sono decisamente molto più verticali è interessante che questi software incominciano ad arrivare anche con funzioni dedicate per gli Apple Silicon quindi qualcosa si sta muovendo ovviamente ci vuole un po' di calma come sapete e non è sempre facile sviluppare software in ambito Apple perché abbiamo visto per chi ascolta il podcast di Alex Racuglia Tecnopiz che parla appunto di come si sviluppa e come si bisogna rapportarsi con il mondo Apple quando si sviluppa un'applicazione quindi ci sono dei pro e dei contro come in tutti i mondi e uno di questi lo vediamo anche noi come vi dicevo all'inizio quando si tratta di portare un software all'interno del mondo Apple e renderlo nativo col suo nuovo hardware quindi è una cosa che sarà un po' lenta ma come avete sentito anche delle parole di Mariano qualcosa si sta muovendo abbiamo anche dei software molto verticali per l'Arcvids e quindi chi vuole sperimentare questa avventura all'interno del mondo Apple essenzialmente può farlo in modo decisamente interessante ovviamente ci vorrà ancora un po' di tempo e speriamo anche che l'apertura verso OpenUSD e l'introduzione del nuovo hardware Apple Vision Pro possa essere di aiuto in questo senso e ora invece parliamo dell'ultimo argomento del podcast che riguarda il non real-time raytracing per parlare di Blender di cui abbiamo accenato prima ma ora andiamo un po' più in profondità esatto perché Blender ha un plugin molto importante e molto potente che è quello di SecolX ed è completamente supportato dalla serie M ovviamente ha un plugin sviluppato in maniera Open Source quindi ha una valanga di problemi ma anche una valanga di pregi è un plugin davvero potente in evoluzione continua riesce a gestire tranquillamente una scena di rendering diciamo di complessità medio alta inizia a soffrire quando c'è un altissimo numero di vertici ma questo non è un problema del motore di rendering è un problema di Blender stesso che magari ancora non riesce a gestire molto bene una grande quantità di vertici come per esempio quando abbiamo grandi foreste cose del genere ancora lui stenta ancora qualche problema da questo punto di vista però è una soluzione che è completamente gratuita disponibile sin da subito sul web ci sono infinite risorse per poter fare informazione e prepararsi Blender da parte sua ha un comparto di modellazione di creazione di materiali molto complesso pari a quello di cinema 4D e di 3D studio max quindi la base di partenza per questo motore di rendering è davvero molto buona deve essere considerata sempre quando andiamo a scegliere un software che sia per un ambiente Apple a proposito di ambiente Apple intanto ti ringrazio per aver fatto tutta questa bella carrellata e anche qui ti chiedo se dovessi scegliere tra uno dei vari software di ray tracing non real time quali consigli di tenere sott'occhio io al momento direi di tenere sott'occhio ovviamente CycleX perché è un software accessibile a tutti senza alcuna spesa è molto facile da imparare poi diciamo in seconda posizione metterei OctenX perché abbiamo parlato di quella parte sull'iPad che è sperimentale che è molto divertente assolutamente da seguire subito dopo un Redshift perché è validissimo dal punto di vista della qualità del rendering ovviamente è uno strumento già più per professionisti come dicevamo poco fa l'ultimo metterei Unreal non perché non abbia un labirinto di possibilità da esplorare ma perché semplicemente al momento non è facile riuscire ad approcciare ad Unreal perché richiede una formazione molto importante è un tipo di lavoro che si fa con lungimiranza è un tipo di lavoro che richiede forti conoscenze di programmazione quindi è quello che ha più possibilità di tutti gli altri che ti apre ad un mondo infinito ma è quello anche i risultati con Unreal sono molto più difficili da raggiungere se siete architetti come me come Roberto che cercate un risultato quasi immediato non real time ma ci approssimiamo al real time sicuramente la formazione e il tempo impiegato per ottenere i risultati con Unreal Engine è davvero tanta forse al momento non è quello più user friendly grazie Mariano per le considerazioni che hai fatto sui consigli ma immagino che non è finita qua perché ci saranno delle considerazioni finali che vanno a chiudere questa puntata di Snap render imperfetti allora facciamo una considerazione su queste su questi software che sono tutti molto validi però ancora non riescono arrivare a livelli dei software supportati su Windows quindi c'è una grave carenza da questo punto di vista e questa è una carenza dovuta al tipo di tecnologia che Apple adesso sta sviluppando cioè la serie M in particolare innanzitutto perché la loro GPU integrata non riesce a fare dei calcoli retracing real time e comunque per il momento Apple non ha dimostrato un grandissimo interesse nello sviluppare un tipo di accelerazione retracing di tipo hardware sono uscite dei toolkit correggimi se sbaglio Roberto per quanto riguarda l'accelerazione software in retracing che sono visibili anche sul sito di Apple però non è ancora cioè l'hanno delegata agli sviluppatori però loro dal punto di vista hardware ancora non non stanno tirando fuori nulla vedremo se con le uscite di settembre con l'arrivo della serie M3 se ci saranno degli sviluppi con il processo a 3 nanometri vediamo si implementeranno anche delle migliorie dal punto di vista hardware però diciamo che sono decisamente molto in ritardo anche perché a giugno AMD è uscita con i processori a 4 nanometri sui pc handled che le handled sono questi questi pc con la forma di una nintendo switch però sono in realtà degli ultrabook e AMD è uscita all'interno di rogalli che è la handled di di asus con questo processore che è la z1 extreme lo z1 extreme è potente tanto quanto un m2 pro è venduto nella handled a 790 euro mentre tipo l'm l'm2 è venduto l'm2 pro è venduta molto di più vero roberto? eh sì perché comunque entra già in computer che sono di un certo livello parliamo dei macbook pro mi parla anche del mac mini cc all'interno e poi a salire ovviamente esatto e questo processore cosa ha di particolare innanzitutto è una a più e quindi ha una igpu integrata all'interno che se non sbaglio si chiama radio uno 780 m questa igpu ha la particolarità di supportare le tecnologie come quelle di RDNA2 e 3 questo automaticamente vuol dire che è un processore che supporta l'FSR quindi il super sampling implementato da AMD e supporta anche il retracing implementato da AMD quindi sono arrivati sul mercato dei SOC con grafica integrata che supportano il retracing e il primo a implementarle è stato AMD peraltro dando una davvero una bella botta a livello di potenza a tutti i processori della Apple perché praticamente è l'unico processore che riesce a competere al momento con questa CPU che è la Z1 Extreme e superarla si intende è l'M2 Ultra appena uscito però stiamo parlando di PC che sono innanzitutto strutturati come un desktop mentre questa qui è una specie di console che si tiene su una mano quindi stiamo parlando di due livelli totalmente diversi eh sì decisamente diversi è molto interessante questo aspetto sarei molto curioso di vedere delle prove ad esempio per quanto riguarda i consumi ma immagino che se riesce a stare tutta questa potenza sì i consumi stiamo parlando di gli stessi consumi cioè in realtà dovrebbe consumare di più un M2 Pro perché stiamo parlando di un processore che lavora se non sbaglio sui 45 Watt giusto adesso francamente non mi ricordo ma immagino che sia lì mi sembra che stiamo parlando di cifre del genere e su batterie da 70 Wattora giusto quelle che dovrebbero essere dell'M2 Pro cioè su laptop su qualche montano gli M2 Pro mentre questi qui sono sì è vero 4 nanometri sono vanno intorno ai 30 Watt come TDP sono montati su queste Elden che hanno batterie da 40 Wattora quindi diciamo a livello di consumi hanno un livello di scarico molto simile a volte potrebbe essere migliore quella di Apple a volte potrebbe essere migliore di AMD ma siamo arrivati alla stessa linea di consumi davvero molto interessante questa soluzione hardware da tenere presente anche perché magari forse qualche sviluppatore di computer prenderà in considerazione questa situazione e magari si avvicinerà a soluzioni hardware simili a quelle di Apple ovviamente staremo a vedere come si muoverà il mercato questa è una considerazione molto interessante quella che ha fatto Mariano ti ringrazio anche per questa conclusione in fase di chiusura del podcast ma prima di lasciarti fare i saluti ti faccio un'altra domanda la prossima puntata di Snap rendere imperfetti che tema avrà? la prossima puntata in realtà sono un po' indeciso quindi potrebbe essere una possibilità che potremmo dare agli ascoltatori magari la mettiamo sul tuo Instagram Roberto la mettiamo sia su Instagram e su Telegram magari mettiamo la mettiamo al pubblico così facciamo facciamo scegliere a loro questa puntata perché sono due in sviluppo entrambi molto interessanti potrebbero essere due possibilità se vuoi l'anticipo certo una puntata è di confronto tra i migliori software GPU presenti sul mercato mentre l'altra sono le tecnologie che arrivano dal mondo dei videogiochi per l'architettura veramente due puntate interessanti non vedo l'ora di registrare assieme Mariano ovviamente come avete sentito Mariano è un pozzo di idee ci ha tenuto compagnia fino qua spiegandoci un bel po' di cose ma come sentite non è finita qua ci sono tante altre cose che per questa stagione autunnale e molto probabilmente anche quella prima in verile sentiremo Mariano che ci racconterà un altro sacco di cose partecipate a sondaggio vediamo chi vince e sono proprio curioso di sentire le parole di Mariano a riguardo ma direi che per questa puntata è tutto Mariano se vuoi salutare i nostri ascoltatori è il tuo momento un saluto a tutti quanti un saluto a te Roberto vi auguro una buona stagione autunnale con Snap sicuramente lo sarà anche grazie alla tua compagnia ma direi che per questa puntata è davvero tutto e non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di Snap architettura imperfetta e successivamente anche quelle di render imperfetti e vi ringrazio di cuore per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltare le nostre voci realizzate col supporto tecnico e morale di Alex Acuglia e Matteo Scandolin e che fa parte del network Random Radio la web radio geek ci sentiamo nella prossima puntata di Snap render imperfetti un podcast color grigio ciliegia grazie a tutti